... Messina, ricordiamo i nostri telespettatori, poco fa con un post grillo parafrasando Primo Levi se questo è un uomo, ha scritto se questo è un paese per attaccare il capo dello Stato e il Premier, ha utilizzato un'immagine modificata, taroccata dell'ingresso di Auschwitz, sollevando ovviamente la reazione... Devo dire che esprimo solidarietà alle comunità ebraiche, è una vergogna che per far politica Grillo ha cavalcando la sua antipolitica, poi tra l'altro ha portato 150 parlamentari nelle istituzioni, non può più dire che fa antipolitica, fa mala politica, perché nell'istituzione non ha concluso niente, oggi per carpire qualche consenso tira fuori Primo Levi e deturpa la storia del nostro paese, allora è la storia mondiale, quindi in questo senso piena solidarietà alle comunità ebraiche è una denunzia delle buffonate di Grillo, la smetta, se vuol far politica la faccia parlando dei temi seri che riguardano il nostro paese, ma la smetta francamente con queste buffonate che una sola cosa hanno, un effetto solo hanno, di dire basta a Grillo e al suo movimento.